Si è svolta il 31 luglio 2011 l'ottava Coppa Città di Tramonti. La gara è stata organizzata dall'AS Progetto Corsa Promo Sport in collaborazione con la Tramonti Corse. La gara vede al via ben 102 equipaggi con lotte in tutte le classi. Nella classe GT2 a dominare è il sorrentino Fabio Durante che con la sua Peugeot 106 1.6 16 valvole si impone su tutte le manche conquistando alla fine un meritato primo di classe, prima di gruppo e si piazza undicesimo nella classifica finale assoluta. Ora gustiamoci le sue immagini con l'onboard. Buongiorno Assolutamente La freccia Perfetto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.